Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di CosaE, E-S-M-A. 8 dicembre 2022, non lavoro, sono a casa, decido di andare a fare un giretto ai mercatini di Natale di Padova, vado in treno così mi rilasso, non devo pensare a parchetto o nient'altro, e decido anche di fare un vlog, un mini vlog da portarti sul canale. Lasciami un like per l'idea, giustamente prima tappa, cosa fai? Non fai una bella colazione abbondante nel posto più bello secondo me, Radici, a Padova. Mi piace tanto perché ci sono gli alberi all'interno proprio del luogo e vabbè i disegni anche di Tony Gallo e mi piace questa parete che è totalmente ricoperta da vero muschio. Le piante invece alcune sono vere, alcune sono finte, ma adoro questa location e quindi decido di fare la mia colazione con il cappuccino decaffinato e la brioche con la gianduia. Iniziamo con dei mercatini goduriosi di cibo, cioccolata calda, vin brulee, formaggi, cose tipiche di altre regioni, taralli pugliesi, quanto sono buoni. Gli stramo sono fantastici di qualsiasi gusto. Poi vetrine natalizie, quelle che catturavano la mia attenzione con le decorazioni più carine secondo il mio punto di vista. Poi questa terrazza mi è sempre piaciuta, anche quell'altra che tra poco vedrai. So che c'è un giardiniere apposito che cura solo queste due terrazze, è proprio una cosa storica. E poi altre bancherelle, altre vetrine, questo mi piace molto, shabby shake, l'avrei potuta fare io. Tu sei forse in un'altra vita. Poi mi faceva ridere il nome di questo negozio perché mi piacciono molto i giochi di parole, si chiamano poche scuse, indovina che cosa c'è da mangiare. Ah, questo mi faceva un sacco voglia, sono dei prezzi, ha un gusti buonissimi, giganti, wow, la prossima volta ne prenderò uno. Ah, poi quelle decorazioni lì, poi questa è, si chiama gelateria Giotto e fanno i panettoni, sono incarcerati e fanno i panettoni, sono talmente molto bravi che sono diventati molto famosi. Poi mi piace, questo non c'è niente come Natale, ma mi piaceva. Poi qui siamo in piazza Cavour, dove c'era l'albero, quello gigante di Natale, che c'è un po' in tutte le piazze d'Italia, ecco l'albero gigante. Poi questa bancherella mi piaceva perché aveva le ghirlande, dato che ne abbiamo a realizzata una insieme praticamente. E volevo vedere anche le altre ghirlande che facevano gli altri, tutti verdi, sono cose verdi però, la mia più bella, più originale. E questa bancherella era perfetta per attirare i bambini piena di giuggetti, dolciumi. Poi qua vari pappi Natali, schiacciano voci, giustamente. Queste bancherelle sono bellissime, anche solo da guardare, con tutti i dolciumi, cioè bellissima, la Willy Wonka proprio. Questo qua era ipnotico, cioè ho dovuto filmarlo perché è fantastico. Poi ci sono tante bancarelle di ogni tipo, non solo di dolciumi e cibo, ma anche queste creazioni in lana cotta, molto belle. Anche questa, molto bella, delle creazioni, questa qua era bellissima, aveva delle creazioni fantastiche, bellissime. Ed è un regalo, tipo, altri pappi Natali, cose natalissi, giustamente, mercatino di Natale, cosa vuoi trovare. Giustamente. Quelle targhette lì di Poppo Natale, nonostra belle, mi piacevano molto. Cos'è un shabby chic? Anche qua. Che bello, mi piacevano un sacco. È stata proprio una bella giornata. Sì, c'era freddo, però c'era bel tempo. Questo villaggio di Natale quanto bello è, quanto è successivo. C'era una vetrina, la vetrina più bella, secondo me. Guarda che dettagli, che bello. Qualcuno mi spiega che cosa sono questi mostriciattoli che trovo sempre ovunque. Allora, entriamo qua. Ci sono vari negozietti alimentari. Ho filmato qualche cosa che mi faceva voglia. Sì, le cose che mi facevano più voglia le ho filmate, ovviamente. E questo anche è un negozio di solo cose vegane e fanno delle cose che veramente io, wow, sono sicuramente buonissime e soprattutto molto molto belle. C'è anche il libro. Sì, guarda. Cioè, io sono ogni ora, mangio tutto e mi fanno molta voglia. Cioè, gli hamburger quelli. Poi c'era in piazza, in un'altra piazza, vicino a Pedro Occhi, c'era questo artista di strada che aveva queste marionette. Ovviamente ho tolto l'audio. La signora che giustamente mi passa davanti. Molto gentile. Poi qua ho deciso di mangiare finalmente un tramezzino che ho comprato pollo bacon. Era in offerta a Lidl. Mi è piaciuto. Poi qui ho ripreso il cielo perché sembrava una cosa fantasy al ritorno. E, cioè, guarda che bello. Sembra un finto. Era talmente bello da sembrare finto. Ho detto, no, devo filmarlo. E anche questo scenario era bellissimo. Cioè, veramente bellissimo. Poi ho concluso giustamente con un bello spritz, un aperitivo. Perché praticamente ho iniziato a filmare l'aperitivo. Quando avevo già iniziato a bere e a mangiare. No, ho dimenticato di fare la chiusura del video con l'aperitivo. Avevo fatto la foto su Instagram. Quindi chi mi segue su Instagram ha visto la foto. E quindi c'erano un po' di più di pizzette e stuzzichini che ho mangiato. Avevo fame. Comunque dopo ho anche cenato. E non ho cenato con l'aperitivo. Ci tengo a precisarlo. E quindi, niente, questo è stato l'aperitivo. Spero che ti sia piaciuto. Io ti auguro buonanotte. Buon relax. Ciao, creatura.